Sì E' simmato? Mi vai morire così Sì Qui tipo Eh ma dille cose no? Dille le cose porca Eva Ti fai morire tu così eh Non l'ho fatto io Qui entri c'è la riveliazione Dove? Io non l'ho mai fatto A me è piaciato Ah ok Secondo me è sinistra Certo Per la linea di Alice Ma è normale però Quindi Così Ma Ma no Ma scusa eh Non hai fatto quello che mi ho detto Ma no Tu sei passato da là Questo è aperto Tutto a sinistra tutto sinistra Anche Ma qui non è aperto Un po' 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 come è oh Allora, vieni qua, vieni qua, vieni qua! Vieni qua, vieni qua! Vieni qua, vieni qua! Vieni qua! Vieni qua, vieni qua! Vieni qua, vieni qua!